bene un altro 3 a 0 sono contento abbiamo cambiato un pochino la squadra ha fatto giocare altri altri ragazzi hanno risposto bene e quindi questo è importante che ci permette il livello tecnico di girare un po la squadra e comunque vincere 3 a 0 abbiamo fatto un bellissimo primo set dal punto di vista tecnico tattico un po' meno secondo e terzo abbiamo mollato un pochino la fase break soprattutto niente dobbiamo imparare dobbiamo lavorare ma siamo sempre nella strada giusta quella partita di oggi è stata comunque una bella partita tre punti importanti per il campionato abbiamo iniziato diciamo bene però ci siamo un po adeguati al loro ritmo abbiamo calato un po livello però comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo di vincere e portare a casa i tre punti una partita abbastanza fastidiosa soprattutto dopo anche le due ore di viaggio che comunque pesano sul fisico comunque nell'insieme una partita risultato positivo dobbiamo comunque continuare a migliorare perché ci sono alcune cose che comunque devono essere sistemate a a a a a a a a a